Il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo è stato proclamato presidente della provincia di Catanzaro. La proclamazione è avvenuta con lo scambio di saluti tra Abramo ed il presidente uscente dell'ente intermedio Enzo Bruno. Abramo, candidato per la coalizione di centrodestra, è stato eletto mercoledì sera presidente della provincia di Catanzaro, prevalendo di misura sul candidato del centrosinistra Ernesto Alecci, sindaco di Soverato. Abramo, sostenuto dalle liste centrodestra per la provincia, destra civica e provincia cilega, ha riportato 46.885 voti ponderati contro i 46.437 di Alecci, sostenuto dalle liste del PD e di area civica. Le elezioni provinciali di mercoledì sera, che hanno registrato un'affluenza altissima, pari al 93% degli eventi diritto, ovvero sindaci e consiglieri comunali del territorio, hanno anche rinnovato il consiglio provinciale. Quattro consiglieri sono andati alla lista centrodestra per la provincia, tre alla lista destra civica ed uno alla lista provincia cilega per la maggioranza di centrodestra. Due consiglieri sono andati alla lista area civica, uno alla lista del PD ed uno alla lista autonoma, riformisti moderati per l'opposizione. Anche i 12 nuovi consiglieri provinciali sono stati proclamati venerdì mattina. Al sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, vanno le più sincere congratulazioni per l'elezione a presidente della provincia. È un importante riconoscimento ad un amministratore da sempre impegnato al servizio della collettività e del territorio che ha ottenuto risultati importanti nelle sue plurime esperienze da sindaco della città-capoluogo di Regione e nel mandato da consigliere regionale. Lo afferma in una nota il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Daniele Rossi. Sono certo, aggiunge Rossi, che la sua elezione rafforzerà e rilancerà la collaborazione istituzionale tra la Camera di Commercio di Catanzaro e la provincia, mettendo in campo una concreta condivisione di un percorso unitario sui temi cardine per lo sviluppo socio-economico del nostro territorio. Al neo e eletto presidente della provincia di Catanzaro, Sergio Abramo, giunge il nostro augurio di buon lavoro. Lo afferma in una nota Confindustria Catanzaro. L'Associazione degli Industriali Catanzaresi, come di consueto, prosegue il comunicato, rinnova e conferma la propria ampia disponibilità al confronto e alla discussione sui temi legati allo sviluppo economico del territorio. Siamo convinti che il presidente Abramo saprà coinvolgere tutti gli attori economici della provincia così da rispondere alle esigenze del tessuto produttivo con sempre maggiore efficacia. Qualcuno tenta di fare passare una vittoria schiacciante per una mezza vittoria, se non addirittura per una mezza sconfitta. I fatti parlano fortunatamente un'altra lingua. Intanto il centrodestra torna alla guida della provincia di Catanzaro dopo la fallimentare e soprattutto inutile parentesi della presidenza Bruno. Lo afferma il consigliere regionale Domenico Tallini, coordinatore provinciale di Forza Italia-Catanzaro. La vittoria di Catanzaro, unita a quella di Vibo Valencia, riporta il centrodestra e marcatamente Forza Italia, dice Tallini ai microfoni di RTC, al centro del sistema politico calabrese. Questo dato rappresenta un buon viatico per i futuri appuntamenti elettorali, a cominciare dalle europee di maggio e per finire alle regionali. Il centrodestra, unito nelle sue varie componenti, ha dimostrato di essere vincente e convincente, ha aggiunto Tallini ai nostri microfoni. Ecco, Vittorio, molto striminzita Tallini. A cosa lo addebita? Problemi nel centrodestra, Catanzarese? No, assolutamente. Il centrodestra lo addebito al potere di corruzione, ma io non voglio dire questo perché i voti sono espressi dai consiglieri, però certamente se la maggioranza a Catanzaro ha 22 consiglieri comunali e prende 20 voti, vuol dire che ci sono stati due voti della maggioranza che hanno votato per il centrosinistra. Quindi, soprattutto, il nostro miracolo è nella provincia, soprattutto nei piccoli comuni, laddove la differenza è stata molto di meno e per reggere a questo fronte, diciamo, di gestione guidato direttamente. Pensate che a Catanzaro, oggi e ieri, a Vibbo, ci sono stati i maggiorenti regionali del PD che hanno fatto proprio questo compito. sono andati a contattare singole persone per fare operazioni di recupero, operazioni che poi in parte sono avvenute, ma che non sono state sufficienti per ribaltare completamente il risultato. Vino ha vinto chi doveva vincere, nonostante tutto quello che è avvenuto e diciamo che da domani Sergio Abramo governerà la provincia come se avesse avuto 20.000 voti di vantaggio perché se le elezioni si fossero svolte liberamente avremmo vinto con questo distacco. Io sono convinto di questo. L'elezione del presidente della provincia di Vibbo Valencia non è andata come speravamo. Tanti interpretano il ruolo che gli elettori danno non come bene comune ma solo come nutrimento di la palissia in interessi personali. E' quanto ha dichiarato il segretario cittadino del PD di Arena, Pasqualino Siciliano, che prova a dare una spiegazione sul voto di domenica alle provinciali di Vibbo che non hanno premiato il sindaco di Arena Antonino Schinella, candidato alla presidenza della provincia. Ad urne chiuse ed a conti fatti mancano al candidato del Partito Democratico i voti dei sei consiglieri comunali del PD di Vibbo. E su Vibbo Valencia ha spiegato il segretario del PD di Arena che si è giocato il destino di Antonino Schinella attraverso rappresentanti eletti con il PD in seno al Consiglio Comunale, che si sono chinati alla Corte delle senatori di Forza Italia Giuseppe Mangialavori e sui voti dei consiglieri comunali del PD finiti al candidato del centrodestra Salvatore Solano. Al momento tutti tacciono, ha aggiunto Siciliano. Ogni allerta meteo in Calabria è diventato un incubo. E' quanto afferma in una nota Tonino Russo, segretario generale della CISL Calabria. Molte le tragedie, tantissime, continua le vittime umane che si spezzano sia per l'incuria dell'uomo e sia per una politica incompetente e spesso inconcludente. Basta una pioggia pesante a causare smottamenti e allagamenti con l'esondazione di torrenti e la chiusura di linea ferroviaria e strade. Non si può più tacere, continua il segretario regionale della CISL. Urge una seria manutenzione con interventi preventivi e non di emergenza. Due persone, un uomo e una donna di cui non si conoscono al momento le generalità, sono morti in un incidente stradale a Reggio Calabria. Le vittime di 45 e 43 anni stavano percorrendo a bordo di uno scooter un tratto di statale interessato da lavori appaltati dall'ANAS ad un'impresa privata per il rifacimento del manto stradale e per questo privo di asfalto. Il conducente, per causa in corso d'accertamento, ha perso il controllo dello scooter finendo violentemente a terra insieme alla donna che sedeva sul sedile passeggero. Per entrambi la morte è stata istantanea. Sul posto, per i rilievi di legge, si sono recate alcune pattuglie della Polizia Municipale. Chiederemo che su questo funesto episodio che ha lasciato sgomenta la comunità cittadina, è detto in una nota del Comune di Reggio Calabria, venga fatta piena luce e che vengano accertate eventuali responsabilità o negligenze da parte di chi eseguiva i lavori e aveva la responsabilità del cantiere. L'amministrazione comunale, da ultimo nella mattinata di oggi, aveva sollecitato ufficialmente i soggetti incaricati che detenevano la responsabilità del cantiere e dell'esecuzione dei lavori affinché il tracciato venisse immediatamente messo in insicurezza. I lavori, infatti, dopo un periodo di stop dovuto alle proibitive condizioni meteorologiche, dovevano riprendere proprio questa mattina alla presenza del personale della Polizia Municipale che si trovava sul posto per garantire le defluire della viabilità, ma nessuno del personale incaricato dalla ditta esecutrice si è presentato all'orario stabilito per l'avvio delle operazioni. Nel giorno in cui il mondo cristiano visita i cari defunti, lei ha ritenuto opportuno ricordare l'importanza che hanno le cose ultime da contrapporre a quella cultura occidentale che vede nella morte un tabù. E' giusto che ci occupiamo della qualità della vita, dei diritti, del rispetto degli altri, della giustizia sociale, della solidarietà. E' giustissimo perché in quanto viventi dobbiamo avere rapporti buoni e una vita degna di questo nome. Ma non dobbiamo trascurare le cose eterne, quelle che alla fine della vita contano. Ed è qui l'insegnamento della Chiesa che ci invitano a guardare al Paradiso, alla visione beatifica di Dio, ci debbano portare a vivere santamente, eliminando gli errori, i peccati, le offese verso il prossimo, chiunque esso sia, e a vivere santamente. Il cimitero ci ricorda che siamo a polvere, in polvere ritorneremo. E questo deve far tacere ogni superbia, ogni orgoglio, tutto ciò che non è degno di un uomo, sia tra di noi, sia anche verso gli stranieri. Sono esseri umani, figli di Dio, come noi. E dico questo senza nessun riferimento a situazioni politiche. Parte dal cuore e al cuore vorrei che arriva. Il sentimento della pietassi verso gli stranieri. Ce ne ha parlato Omero, otto secoli prima di Cristo. Ce ne hanno parlato i latini, Terenzio. Ce ne ha parlato Gesù nella Bibbia. È un sentimento, quello dell'umanità, da tenere sempre presente. E oggi, in questo luogo di pace, ma anche di riflessione e di preghiera, l'ho voluto ricordare per invitare tutti ad avere un cuore grande, sempre, verso tutti, perché alla fine della vita, dinanzi al Signore, presenteremo tutti i gesti di bontà che avremo fatto, l'amore che avremo manifestato a Dio attraverso il prossimo. Maria È stato Monsignor Francesco Nollè a celebrare la messa solenne al cimitero di Cosenza, nella giornata di commemorazione dei defunti. Il preesule nel corso dell'Omelia ha sottolineato il valore della carità nella vita terrena, che è solo un passaggio e va vissuto nella speranza dell'eternità. La carità è mettere in pratica la fede e la speranza, e quindi chi non ha carità non entrerà nel Regno dei Cieli, ha detto il Signore. Penso che è uno sprono per tutti noi quella carità personale, ma anche quella carità associata, che è l'unica, secondo me, che possa sconfiggere il male e anche tutto il resto che è associato per il male. Solo l'associazione nel bene, alla fine, può dare risultati positivi. Il messaggio è che attraverso il ricordo dei defunti possiamo migliorare la nostra vita, perché quello che noi possiamo lasciare è il buon esempio, non solo ai nostri familiari, ma anche alla società. E allora essere ricordati per il bene, penso che sia la più grande eredità, anche la più grande gioia per coloro che vivono ancora su questa terra. Noi vogliamo essere tra questi. Al termine della celebrazione, il sindaco Mario Chiuto ha deposto una corona di alloro davanti alla stele, nello spazio antistante alla Chiesa, in onore delle vittime di tutte le guerre. Presenti alla cerimonia, autorità civili, militari, religiose e le associazioni combattentistiche d'arma. Il latitante Pietro Raso, 29 anni, di Rosarno, ritenuto elemento di rilievo della cosca d'Indrangheta Cacciola Grasso, operante nella piana di Gioia Tauro, è stato arrestato dai carabinieri del gruppo di Gioia Tauro con la collaborazione dello squadrone eliportato Cacciatori Calabria di Vibo Valencia. Raso era latitante dal 9 luglio scorso, quando era sfuggita ad un provvedimento di fermo emesso dalla Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria nell'ambito dell'operazione Ares per i reati di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, porto e detenzione di armi comuni e da guerra, aggravati da modalità mafiose o perché funzionale ad agevolare il sodalizio mafioso. L'arresto è stato effettuato a Santa Eufemia da Spromonte, incontrata a Petrulli, in una dependanza di pertinenza di una struttura ricettiva. Raso è stato trasferito nella casa circondariale di Reggio Calabria. Minacce, percosse, violenze fisiche ed ingiurie, pedinamenti di ingerenze nella vita privata dell'ex moglie, il classico cliché dei casi di stalking costato l'arresto al responsabile. I carabinieri di La Messia Terme hanno eseguito a suo carico un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal locale tribunale su richieste della Procura, nei confronti di un uomo di La Messia Terme. Le indagini condotte dai militari in collaborazione con personale del commissariato di polizia hanno permesso di ricostruire un copione tristemente noto. La condotta persecutoria ha raggiunto il suo apice pochi giorni fa con un ultimo episodio di aggressione. Fortunatamente la giovane donna ha avuto la forza di ribellarsi denunciando i vari episodi a carabiniere e polizia che hanno ricostruito l'intera vicenda. L'uomo è finito in manette con l'accusa di atti persecutori, maltrattamenti e lesioni personali. Una settimana fa una donna aveva denunciato il furto ad opera di ignoti di una radio e di una chiavetta USB dall'interno della sua autovettura, il cui sportella anteriore sinistro era stato danneggiato. Immediatamente i carabinieri si sono messi all'opera per risalire al responsabile del furto aggravato e attraverso un'attenta analisi delle registrazioni di alcune videocamere presenti in zona hanno individuato un trentenne catanzarese che nella notte precedente alla denuncia della vittima avvicinandosi con fare circospetto in direzione del veicolo della donna parcheggiato in una traversa di corso Mazzini ad un certo punto ha raggiunto il lato guida della macchina presa di mira sfruttando la copertura offerta da un altro veicolo innesosta. Dalle indagini è emerso chiaramente che per circa 5 minuti l'uomo è rimasto in prossimità dell'automobile e infine si è allontanato toccandosi le tasche. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per ipotesi di reato di furto aggravato mentre la refurtiva è stata sequestrata in attesa della restituzione alla proprietaria. Prima ha lanciato dal balcone alcuni vasi da fiori verso di loro poi è sceso per strada armato di un bastone di legno lungo un metro amminacciato di morte e i vicini li ha inseguiti per colpirli raggiungendoli dentro il loro esercizio commerciale. È successo alla mezza terme dove agenti del commissariato di polizia hanno denunciato un uomo di 48 anni. Una volta all'interno del locale l'uomo ha colpito con il bastone in testa all'anziano vicino che trasportato in ospedale è stato curato per aver subito un trauma cranico. I poliziotti hanno ricostruito l'accaduto in pochissime ore anche grazie alla visione di filmati degli impianti di video sorveglianza esistenti in zona e dai testimoni accertando che all'origine dei fatti vi sono vecchi rancori per questioni di vicinato. L'aggressore è stato denunciato per lesioni personali aggravate. Oltre 50 kg di funghi posti in vendita in assenza delle prescrizioni di legge sono stati sequestrati a 4 distinti venditori dalla polizia locale di la mezza terme che ha operato con la collaborazione del servizio di igiene e sanità degli alimenti dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. 8 i verbali elevati. I sequestri sono stati eseguiti sia all'interno del mercato coperto comunale di Nicastro sia in occasione del mercato del mercoledì che si svolge nel quartiere. In Serie B si giocherà in questo fine settimana l'undicesima giornata di campionato. Queste le gare Verona-Cremonese l'anticipo, Padova-Cittadella, Palermo-Cosenza sabato alle ore 15, Foggia-Brescia, Benevento-Ascoli, Crotone in campo e in casa, Lecce uscita contro il Carpi domenica alle ore 15, poi ancora Venezia-Salernitana, Livorno-Perugia, mentre chiuderà il quadro il posticipo Pescara-Lecce. Esordirà quindi domenica pomeriggio alle ore 15 Massimo Oddo sulla panchina del Crotone. Avversario sarà il Carpi che non è partito bene in questa stagione. Voglio dare alla squadra identità e mentalità. Ha sostenuto Oddo durante la conferenza stampa di presentazione, assieme al presidente Brenna. Necessario però conoscere meglio i calciatori. Questi primi giorni serviranno proprio a ciò. Ci sono sicuramente i mezzi per riuscire a ragganciare quantomeno le squadre che stanno davanti. Poi questo dipenderà dal lavoro del campo, dai ragazzi, dal mio, da quello del mio staff, da tutti quanti. Cercheremo di fare il meglio possibile. La responsabilità è quella che ti dà il fuoco dentro. Se non senti la responsabilità e la pressione vuol dire che se è tutto normale e quindi non sei stimolato a fare bene. La pressione è normale che ci sia perché un allenatore è colui che è il capo di un gruppo e ha la responsabilità di tutto. Quindi è normale che, soprattutto quando una squadra cambia l'allenatore, è perché non è contento di come stanno andando le cose e quindi per forza di cosa devi fare meglio. E quindi per forza c'è la responsabilità, ma questo credo che sia, lo prendo come uno stimolo per lavorare bene, per lavorare tanto. È solo attraverso il lavoro che si può migliorare. Quindi questo è l'unico credo che io ho. A me piace una squadra con determinate caratteristiche, piace far giocare bene al calcio la squadra. Per fare questo, un allenatore non può far giocare bene una squadra se non ha i giocatori adatti. Io credo che questa sia una squadra che ha il potenziale per poter fare un buon calcio. Buon calcio non vuol dire essere legati ad un modulo, vuol dire che ci sono giocatori in campo che si sanno muovere bene e il sapersi muovere è compito dell'allenatore di cercare di trasmetterlo. In Serie C in programma la decima giornata a queste le gare. Catanzaro Bisceglie sabato alle ore 16.30 allo Stadio Ceravolo, Juve Stabia Casertana, Paganese Leonzio, Potenza Catania, Rende Regina che si giocherà lunedì sera allo Stadio Lorenzon, Siracusa Cavese, Trapani Matera, Vibonese Virtus Francavilla in programma sabato pomeriggio alle ore 14.30 allo Stadio Razza, infine Derby Laziale, Viterbe Serieti. Conferenza stampa a prebisceglie per il tecnico dell'usca Tanzaro Gaetano Auteri, cerchiamo una grossa prestazione per metterci alle spalle un periodo non felicissimo, ha detto avremo di fronte una squadra partita in forte ritardo nella scorsa estate ma che è stata capace di riassestarsi ed organizzarsi, ma se giochiamo come sappiamo possiamo prevalere senz'altro, cercheremo di imporci attraverso la prestazione come sempre. Ha sostenuto Auteri ai microfoni di RTC. Ma sicuramente veniamo da una sconfitta e da un pareggio, per cui non vinciamo da due partite ed è fondamentale, di vitale importanza vince e ritornare a fare i punti. I punti si ottengono se facciamo una partita ad esempio migliore di quelle che abbiamo fatto con il Monopoli, dove anche le condizioni del campo, sia a noi che a loro, un campo un po' irregolare, hanno penalizzato il contesto tecnico, per cui abbiamo assistito anche a qualche errore di troppo. Dobbiamo fare una partita buona, dopo, ripeto, una sconfitta e un pareggio bisogna ritornare a vincere, poi noi abbiamo già osservato il turno di riposo, in questo campionato in cui francamente c'è un guazzabuglio, non si capisce niente e speriamo di poter recuperare presto anche la partita con la regina, ma indipendentemente da questi discorsi qui, domani si gioca per vincere, ma bisogna farlo, bisogna farlo indispensabilmente, improrogabilmente e bisogna farlo attraverso una partita importante, una prestazione importante, per cui saranno importanti anche le scelte e anche chi subentrerà, lo dico per l'ennesima volta perché è impensabile poter pensare di giocare dall'inizio alla fine o lo stesso 11, tra l'altro i cambi sono 5, quindi chi entrerà sarà, secondo me, anche determinante, per cui lo dico a voi e l'ho già detto ai ragazzi, tutti in uno stato di allerta totale perché è importante fare i tre punti. Sabato con la Virtus Francavilla per noi sarà più difficile di lunedì a Caserta, ha parlato così in settimana Mario Prezioso, autore della rete che valza il pari della Vibonese in terra campana. Il pareggio in casa di una big ci ha dato molta autostima, sono felicissimo per il gol e per il risultato, ma ora ci attende immediatamente una gara ancora più insidiosa contro una squadra che si esprime bene e che può dire la sua in questo campionato, proprio come noi. È stata sicuramente una partita difficile, in un campo altrettanto difficile, con una squadra molto forte, costruita per obiettivi importanti, però noi siamo andati lì con la consapevolezza di essere un gruppo molto forte e unito, e siamo andati in campo con la consapevolezza di potercela giocare sia con loro che contro qualsiasi altra squadra, perché andiamo in campo, abbiamo le nostre idee e sappiamo quello che dobbiamo fare e alla fine, come speravamo, abbiamo fatto un buon risultato, anche se meritavamo qualcosina in più, però la strada è quella giusta, anche se siamo ancora all'inizio e dobbiamo dimostrare ancora molto. Sicuramente ero molto euforico, molto felice, perché segnare con una squadra importante come la Casertana e pareggiare lì sicuramente è stata una bellissima emozione, e comunque ero molto contento perché non facevo gol da un bel po' di tempo, soprattutto perché l'anno scorso sono stato quasi per tutto l'anno fermo e quindi è stato un momento di gioia e di liberazione per me. Parlare di quello che è stato a Francavilla è molto emozionante da parte mia, perché lì ci sono molte persone che mi hanno sempre voluto bene, mi hanno sostenuto sin dal primo giorno che sono arrivato lì. È stato per me un anno bellissimo anche per come è andata in campionato e soprattutto dal punto di vista personale. Vediamo le gare della prossima giornata in serie di Gironei. A Cirealei Bari il Castrovilla ririceve al 1 maggio Mimmorende la San Cataldese, città di Messina Rotonda trasferta in Sicilia per il Roccella sul campo del Gela. Ige Virtus Marzala torna in casa il Locri dopo la gara di Bari. Gli Amaranto di Scorrano ospiteranno la CR Messina che cerca il rilancio, la Palmese all'Opresti contro il Troina, Portici in Ocerina ed infine la trasferta della città novese di Misterzito all'Iguori di Torre del Greco contro la Turris. E vediamo il quadro anche in eccellenza. Acri, Isola Caporizzuto, Bocale Cutro e l'anticipo di sabato, Olimpic Rossanese e Gallico Catona, Paolana Bovalinese, Scalea Siderno, Serzale Reggio Mediterranea, Soriano Cotronei e infine la trasferta della Corazzata Corigliano sul campo del Trebisacce. Vediamo le gare in programma per la sesta giornata di basket, campionato di Serie B. Partiamo dal girone C nel quale milita Catanzaro mentre la formazione di La Mezzeterme ha rinunciato a questo campionato. Queste le sfide della sesta giornata, Ancona-Corato, Campli-Giulianova, Civitanova-Sansevero, trasferta per Catanzaro sul parquet di Fabriano. Nardò-Chieti, Pescara-Porto-Santelpidio, Senigalli a Bisceglie. Non si giocherà invece Teramo-Lamezzia per il ritiro dal campionato della formazione calabrese. Andiamo nel girone D dove è impegnata la Viola Reggio Calabria. Queste le gare in programma per il sesto turno. Batti-Pagliese-Scauri, Caserta-Pozzuoli, Cuore-Napoli-Costa d'Orlando, Green-Palermo-Matera, Luis-Roma-Valmontone, Palestrina-Tiber-Roma, Virtus-Salerno-Stella-Azzurra e infine la gara casalinga della Viola Reggio Calabria con il nero-arancio di Coaccio e Mecacci opposti alla formazione dell'Alfa Catania.